Ragazzi buongiorno. Perfetto Ube e Kenny. Ovviamente Kenny di South Park, meglio precisare perché se qualcuno non dovesse ancora aver capito come iniziare una mattinata a Francoforte se non sotto una leggera pioggerella e con un buon caffè che stavamo notando che noi in Italia quando laviamo la macchina del caffè poi buttiamo via l'acqua nel lavandito Mentre qua in Germania dicono perché buttarla via? È ancora sporca, sicuramente saprà ancora un po' di caffè quindi vendiamola ai clienti italiani e così è questo è quello che stiamo vivendo. Ora andremo a fare un giro in questa zona che là c'è il noto simbolo dell'euro che probabilmente sarà una zona costosa. Ciao ciao! La gente normale vede delle decorazioni di Natale e dice oh che belle e noi stiamo perdendo mezz'ora a fare delle foto riflessi nelle palle e stiamo cercando la palla migliore. Questo è Kenny che cerca... Vuole essere le palle. Detto così è abbastanza strano ma in realtà stiamo cercando le palle migliori in cui specchiarci. Una leggera panoramica di Francoforte. Musica Musica Ma il salmone è cotto così che roba deve essere? Mi sa che a pranzo un giro ce lo facciamo. Una bella briochina per iniziare la mattinata ed ottico. Musica Il cani sta mangiando anche la carta dalla fame che c'ha. Musica 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 Questa è la piazza vecchia della città con questi profumi che si respirano c'è un profumo di vin brulee stupendo. Musica 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 Io posso capire tutto, capisco che sia Natale, capisco che la gente abbia bisogno, questa è una piccola parentesi per quanto riguarda il mio lavoro ma sono qua tranquillo in questa bella piazza che faccio un timelapse e track, mi sono al telefono e mi ordino 3 kg di cannelloni al ragù quando viaggi trovi sempre della gente con i pantaloni a vita bassa vieni Gio, sto tirando fuori il Piero Angela che c'è in me, non puoi mancare parliamo di Francoforte, Francoforte sul meno, il meno è questo fiume che attraversa la città e divide la zona storica nella parte nord dalla parte sud che è la zona un pochino più ricca di 600.000 persone, quindi direi abbastanza grande e a uno degli aeroporti più importanti d'Europa, il terzo se non sbaglio come dimensione, come numero di passeggeri che ci transitano all'anno ecco qua e dopo un lunghissimo briefing per quanto riguarda dove andare a mangiare, cosa mettere sotto i denti per l'ora di pranzo la nostra scelta è ricaduta su quel bellissimo filetto di salmone, cotto tipo alla brace ma che roba è, no raga davvero questo panino con salmone non potete capire che cosa sto mangiando è stupendo mettiamo a fuoco o no? canni com'è il panino? com'è il panino? dillo buonissimo e le porcate non finiscono mai quello che si vede alle mie spalle è il palazzo della banca centrale europea e si vede infatti il simbolo dell'euro stiamo cercando di andare sul ponte che attraversa appunto il il meno questo fiume meno si chiama, si francoforte sul meno e fare una foto dello skyline della città veramente bellissimo vi consiglio assolutamente di venirci qua alla sera vorrebbe voler dire tipo i dodici apostoli thank you questo è un chicken schnitzel with roasted potatoes and pepper sauce madonna che accento mi sento in inglese e questo qua invece è un pork schnitzel with mushroom sauce and roasted potatoes buon appetito Kenny anche a te un messo no vabbè abbiamo trovato la macchina di allustrare le scarpe e voglio andare a dormire con le scarpe lucide altrimenti non dormo è la terza volta quasi consumato di una taglia perfetto ragazzi buonanotte buongiorno ci siamo svegliati una bella doccia un paio di ordini perché ovviamente i clienti non ce la facevano a non chiamare anche questa mattina e adesso andiamo a fare una bella parazione per avere un buon caffè di quelli tutti tedeschi ah dimenticavo Kenny è sempre con me ora andremo dopo aver fatto colazione l'idea è quella di andare in cima alla main tower perché questa mattina non essendoci la nebbia magari riusciamo a fare qualche bella foto panoramica dall'alto diciamo che qua in Germania il sole lo vedono veramente poche volte d'inverno però se non altro non piove e vede già qualcosa a differenza di ieri stiamo andando in cima alla torre abbiamo provato anche due amici italiani non si possono fare i video ma abbiamo con noi Antonio e Nicoletto piacere in cima si possono fare le foto ma non i video quindi in un video vi farò vedere che non si potranno fare ciao che ve ne pare? ci sta Kenny sul tetto del mondo sul tetto del mondo ovvio il senso di orientamento di Kenny è una cosa strabiliante non ha azzeccato una via non ha azzeccato un posto secondo lei siamo sempre un po' di più un posto diverso dal posto in cui siamo se non ci fossi stato io probabilmente sarebbe già in Bielorussia non so a far cosa vero Kenny? no